Nella mattinata di sabato i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria hanno tratto in arresto Morabito Leo, detto Scassaporte, classe 50 di Africo Nuovo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria poiché accusato di tentata estorsione aggravata, lesioni personali pluriaggravate in concorso, detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravato. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate dai carabinieri di Bianco sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria a seguito dell'afferimento mediante colpi d'arma da fuoco patito nel pomeriggio del 19 ottobre del 2016 nelle campagne di Contrada San Giorgio a Bianco ai danni di Francesco Lucà, ingegnere bianchese. Specialista in gioventù nello sfondare porte e finestre per cui si è guadagnato l'appellativo di Scassaporte, Morabito Leo è diventato successivamente un elemento di spicco dell'omonima cosca africese. È stato condannato nell'ambito dell'operazione Tuareg nel 1998 a otto anni di carcere per associazione mafiosa e altri reati. Da tempo Morabito aveva iniziato a rivendicare la proprietà di un terreno della famiglia Lucà, sito in Contrada San Giorgio, ai confini con Africo Nuovo, adottando tipiche modalità mafiose, impossessandosene e addirittura recintandolo per poterne usufruire esclusivamente. Nel momento in cui Francesco Lucà ha deciso di recarsi sul proprio fondo per ripristinarne le condizioni originarie e usufruirne secondo diritto, ne è scatorita una reazione violenta, anche questa condotta con le modalità tipiche della criminalità organizzata, concretizzatasi nel ferimento dell'ingegnere mentre stava lavorando su quel terreno a bordo di un trattore. Le indagini condotte in un clima di profonda omertà e reticenza hanno consentito di ricostruire con esattezza ogni passaggio della vicenda estorsiva, portando a identificare il Morabito quale mandante del gruppo di fuoco, i cui componenti non sono ancora stati identificati, che ferì all'addome e ad una gamba l'ingegnere Lucà. Nell'abitazione del Morabito durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un bunker su cui sono in corso accertamenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria.